Buongiorno amici dell'Associazione della Terza Età, chi vi parla è il docente di educazione stradale Modestino Festa, quest'anno sono 22 anni che io collaboro con questa gloriosa associazione. Facciamo un po' di ripetizione, ecco qua vi faccio vedere il vigile con questa posizione, ci dice che è verde, quindi possiamo proseguire, però dobbiamo sempre stare attenti a quelli che si mettono. Come pure nella rotatoria, massima attenzione, dobbiamo girare nel senso delle frecce, mi raccomando non all'incontrario. Questo è un segnale di pericolo e una curva pericolosa, mi raccomando in curva non bisogna sostare, sorpassare, invertire il senso di marcia, è molto pericoloso. Con questo segnale teniamo la precedenza rispetto ai veicoli che vengono da destra e da sinistra, quindi la precedenza è nostra, mentre da destra e da sinistra arrivano dei veicoli e incontrano questo segnale e loro devono dare la precedenza. Mi raccomando, date la precedenza quando vedete questo segnale. Questi due segnali, con questo bisogna fermarsi e dare la precedenza a chi viene di fronte, mentre con questo teniamo la precedenza rispetto a quelli che vengono di fronte. massima attenzione sempre. Questo segnale qua spesso lo violiamo perché prendiamo il posto delle persone che hanno bisogno con persone con handicap, mi raccomando non lo dobbiamo fare. Questo segnale ci vieta la sosta, ve lo dissi già l'altra volta, dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera, però la fermata è consentita. Questo è il classico segnale che troviamo in autostrada, mi raccomando, imbocchiamo dove sta la freccia verde, il varco verde, il varco rosso no, perché vengono i veicoli di fronte, è attenzione che è pericoloso. Limite massimo di velocità, massimo possiamo arrivare a 50, superiore no. obbligo di proseguire dritto. Questo segnale è il originale del passo carrabile, vedete c'è un'autorizzazione, c'è un numero, molti mettono soltanto il divieto di sosta, ma non ha validità. Bisogna chiedere l'autorizzazione al comune, quindi tramite i vigili. Qualche segnale ancora, vedete questo qua con le frecce rivolte in alto, o la troviamo verso sinistra, sta a indicare che il segnale da quel momento inizia, quindi se sta sotto al divieto di sosta, subito dopo non si può sostare, quindi con la freccia dritta verso sinistra inizia, doppia e continua, mentre con questa ne determina la fine verso il basso o verso destra. Vi faccio vedere ancora un segnale che ad Avellino non c'è, perché questo è riservato ai conduttori di tram, autobus. Vedete il primo, anzitutto funzionano accendendosi una luce bianca dentro, quindi il primo con la fascia orizzontale, vedete, è rosso per il conducente del tram, dell'autobus. Con quello giallo è giallo, con la barra verticale, così indica il verde per l'oro, ma noi non ci dobbiamo preoccupare qua da Avellino, però se andiamo fuori, li troviamo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che non bisogna uscire, perché così ci stanno obbligando, e vi saluto, un'ottima giornata, grazie per la vostra pazienza e prossimamente vi faccio ancora un'altra lezione. Buona giornata a tutti!